C'era anche un italiano sul volo della Lion Air precipitato in mare 13 minuti dopo il decollo da Jakarta, avvenuto alle 6.20 del mattino. Si tratterebbe di Andrea Manfredi, 26enne di massa, con un passato da ciclista. Erano 189 le persone a bordo, fra cui tre minori, due di questi neonati. Secondo una fonte ufficiale dei servizi di soccorso, non ci sarebbero sopravvissuti. L'amministratore delegato della compagnia indonesiana ha reso noto che il velivolo era stato controllato domenica notte per un problema tecnico. Aveva poi raggiunto Jakarta e prima dell'ultimo fatale decollo aveva subito un altro intervento di riparazione, ma si trattava di normale procedura. L'aviazione civile indonesiana ha fatto sapere che il pilota aveva chiesto alla torre di controllo di rientrare per un problema tecnico. I controllori lo avevano autorizzato, poi l'aereo era scomparso dai radar. Le famiglie dei passeggeri, tutti indonesiani, tranne un indiano e, come dicevamo, un italiano, si sono riversate all'aeroporto in attesa di notizie. I resti dell'aereo si trovano ad una profondità di 30-35 metri, a largo dell'isola di Java. Sono stati recuperati i corpi delle prime vittime. Le ricerche proseguiranno per una settimana. Un uomo ha perso quel maledetto aereo. Se avesse tardato sarei stato su quel volo, racconta. Alle 6 e mezza tutti erano già a bordo. Il cellulare di un mio amico, a cui avevo mandato un messaggio, era già spento. Le compagnie aeree indonesiane erano state escluse nel 2007 dalle rotte verso l'Europa per problemi di sicurezza. Divieto revocato nel giugno di quest'anno.